Benvenuti nel mondo degli orologi Mondia. Mondia è un marchio di orologi fondato nel 1935 a Lelocle, in Svizzera, da Paul Vermeaux. Il nome del marchio è stato ispirato dal termine latino «mundus», che significa «mondo», per sottolineare l'idea di un orologio che potesse rappresentare il mondo intero. Negli anni 60 e 70, Mondia è diventato uno dei maggiori produttori di orologi automatici al mondo, grazie a un'efficiente produzione in serie e alla distribuzione in molti paesi. Gli orologi Mondia erano noti per la loro precisione, affidabilità e qualità, e sono stati utilizzati anche in ambito sportivo, come ad esempio per cronometrare le gare automobilistiche. Mondia è uno dei pochi marchi di orologi che ha saputo mantenere la tradizione svizzera di precisione e affidabilità, unendola a un design moderno e innovativo.